La rasegna stampa di Fano TV è il primo appuntamento con l'informazione in diretta del nostro palinsesto tutte le mattine dal lunedì al sabato alle 7 sul canale 17 di Fano TV e ovviamente sui vari device, sui portali, su Facebook e sul nostro sito internet occhionotizia.it. Ben ritrovati, oggi è mercoledì 2 settembre 2020, la chiesa ricorda Sant'Elpidio e qui giochiamo in casa, nelle Marche, Sant'Elpidio del cui nome fu poi insignita la cittadina in cui si conserva ancora il corpo appunto di Sant'Elpidio. Il sole è sorto alle 6.35 e tramonterà questa sera alle 19.46. Come sempre diamo uno sguardo al tempo grazie al bollettino della protezione civile delle Marche pubblicato sul sito regionale. Allora, per oggi, mercoledì, avremo cielo poco, parzialmente nuvoloso, avremo brevi rovesci o temporali locali sui settori interni e occasionalmente anche lungo la pascia costiera. Nel corso della notte, tra mercoledì e giovedì, alcuni fenomeni permarranno sui settori settentrionali. Ecco infatti la grafica di domani mattina. Al primo mattino avremo nuvole comuniformi e sempre al mattino probabili, anzi, rovesci e temporali sui settori settentrionali della regione. Nel corso della giornata, fenomeni convettivi sparsi sui settori collinari e interni. Mentre venerdì il tempo migliora, diventa soleggiato su tutta la regione Marche e quindi torna uno scorcio d'estate, ma ancora possiamo dire tranquillamente, insomma, che l'estate non è finita e quindi dai, possiamo anche permetterci ancora qualche giornata di mare. E quindi andiamo a vedere, a proposito di mare, che cosa ci propone oggi il nostro Tommy il Bagnino. Ci propone una bella mattinata di sole, anche se ancora il sole è un po' coperto giù dalle nuvole, ancora sembra quasi che debba sorgere. Buongiorno Marco. Buongiorno a te. Buongiorno, si sta molto bene qui al mare stamattina, c'è bassa marea e soprattutto posso anche dirti che nonostante un po' di nuvole c'è tantissima visibilità, infatti non so se riuscite a vedere, ma si vede benissimo i monti verso Ancona, si rollo, si vede molto bene. Beh, si vede il Monte Conero qua giù che è una delizia, si vede molto bene in fondo. Sì, assolutamente, il Conero è visibile. Insomma, oggi sarà una giornata comunque favorevole per chi vuole venire al mare, anche magari che ci vede dall'entroterra e che decide di passare qualche ora al mare, sì. Assolutamente, assolutamente. Oggi bellissima giornata, prevediamo una bella giornata d'estate. Allora, buon lavoro e anche a te e ai tuoi colleghi e adesso noi andiamo a vedere invece i giornali. Allora, i giornali questa mattina aprono con la notizia che riguarda il trasporto pubblico, sapete che tra poco insomma riprenderanno le scuole, si riapriranno le scuole, anche se in realtà già qualche studente per i corsi di recupero e rientro in classe dopo tanti mesi, e non solo quelli estivi, ma vanno considerati anche quelli del lockdown, sono potuti rientrare in classe. È stata un'emozione anche questa. Però c'è attenzione, molta attenzione, sul 14 settembre quando rientrerà la massa tutti gli studenti praticamente. Allora, il problema è come farle arrivare a scuola. Ebbene, la notizia buona è che c'è posto per tutti, così come titola il resto del carino dell'edizione di Pesoli questa mattina, Adria Bus punta a coprire il 100% dell'utenza nonostante il Covid. Test sierologici anche agli studenti, l'iniziativa prevista alla nuova scuola, adesione quasi totale tra i 47 iscritti e i due licei, i docenti sono soddisfatti. All'ABS invece parliamo di industrie, industrie locali, aziende locali. L'ABS, fine di un'epoca, Porcellini non è più il direttore generale. Il suo posto arriva direttamente dalla barilla, massimo potenza, vedremo tra poco i dettagli. Mammografia gratuita, chi l'ha vista? C'è un'interrogazione, si parla di sanità, poi l'ultimo saluto al ragazzino di 18 anni morto in un incidente stradale a Pesero. E poi la vicenda, ancora con molti lati oscuri, che è successa a Gradare, dove è morto un diciottenne a casa di un'amica. E non si sa ancora il motivo di questo decesso, si attende l'esame autoptico. Poi qui sotto, sempre in prima, nel parco Miralfiore di Pesero, mi volevano rapinare con un coltello la denuncia di una donna che si era inoltrata nel parco, forse in cerca, forse in cerca di stupefacente. Poi si schianta in scooter, muore a 62 anni, successo a Pietrarubbia. Ma lo sport con la VL, che parte per la Sardegna, in questo momento non è il massimo, ma comunque parte per Olbia, Sassere annuncia un caso positivo. E poi tre serate per ricordare i musicisti uccisi dal Covid, da domani a Pesero, a Rocca, a Costanza. Andiamo a vedere adesso invece l'apertura della prima pagina del Corriere Adriatico. Ritorno in classe, buona la prima, prove generali al Cecchi con le lezioni di potenziamento. La dirigenza dice ragazzi emozionati, il debutto dei bimbi anche all'asilo, il preside del liceo Mammiani convoca i docenti al campo da rugby. A centropagini invece un'iniziativa del Corriere Adriatico, due pagine questa mattina troverete. I compagni di banco, ecco, non so se voi ricordate il vostro compagno di banco o la vostra compagna di banco. Questa mattina il giornale pubblica queste due pagine dove Ambrosini, noto giocatore del Milan, ex giocatore del Milan, oggi fa il commentatore di calcio per Sky, ricorda il suo compagno di banco che oggi è un chirurgo a Piacenza. E poi, insomma, gli altri due compagni si raccontano, nonostante siano passati ormai diversi anni. Poi Cavalca Ferrovie, sempre a Pesero, partono i lavori sul lato Miralfiore. Tax day tra tari e con guagli idrici, ma niente aumenti. A Fano concorsi il Comune assume 15 funzionari, 172 candidati in attesa. E poi la cronaca, sempre dalla prima del Corriere, sbanda con la sua Yamaha, muore sbalzato sulla strada, tragedia, sulla provinciale che da Carpegna va a Macerata, Feltria. E poi ad Ancona, morto Longarini, protagonista tra il calcio e le incompiute. Le pagine interne, BS, partiamo da qui, dallo storico gruppo, da un'azienda che solo su Pesero ha oltre 2000 dipendenti, un gruppo quotato in borsa e che lo scorso anno ha chiuso con un bilancio di oltre 700 milioni di euro. La BS. BS che registra un divorzio storico. Esce dal gruppo Stefano Porcellini, che vedete in questa fotografia. Il manager era nell'azienda della famiglia Selci da 25 anni, con ruoli anche in Confindustria. Al suo posto l'amministratore delegato sceglie un ex dirigente della Barilla. Arriva Massimo Potenza come co-amministratore delegato, che è stato appunto per due anni alla guida del gruppo alimentare Barilla. E il giornale, sul giornale di questa mattina, parla di rivoluzione epocale all'interno di questo gruppo. La più importante azienda non solo della provincia, ma anche delle maggiori dell'intera regione. Questa invece è la pagina del Corriere Adriatico. Si dà un altro addio, ma questa volta un addio definitivo, perché nel senso che non è più in questo mondo. Edoardo Longarini, re tra calcio e incompiute. Aveva 89 anni, patron dell'Adriatica Costruzioni, ex concessionario unico degli appalti. Nel giugno 1992 portò l'Ancona in Serie A, quattro mesi prima di essere arrestato per tangente. Ottenne i lavori del piano di ricostruzione anche per la città di Macerata. Imprenditore attivo anche come editore. Qualcuno ricorderà sicuramente le varie gazzette. Noi qua a Fano avevamo la gazzetta di Fano, che personalmente a me piaceva tanto. È un'esperienza che però è finita dopo qualche anno e l'editore appunto era questo Longarini. Il Corriere Adriatico ovviamente questa mattina dedica a questo imprenditore e a tutto ciò che ha fatto per la città di Ancona ben quattro pagine. Tornando sul Carlino invece e sul discorso del trasporto dedicato agli studenti, nessuno resterà a piedi. Sono le parole di Massimo Benedetti, direttore di Adribus, che abbiamo intervistato anche noi nel telegiornale di ieri. Quindi aumenteremo il parco dei mezzi, dice voucher in sconto sugli abbonamenti a causa del lockdown. Pieno carico solo per gli scuolabus, non per il trasporto pubblico locale. Quindi solo per gli studenti, pieno carico. Per tutti gli altri che devono viaggiare sugli autobus resta comunque un limite e quindi non si potrà salire a pieno carico. Mentre sulla pagina 8 e 9 del Corriere Adriatico si parla del ritorno in classe alla Cecchi, sempre a Pesaro. Il Cecchi che ha fatto la prova generale. Ieri mattina le lezioni di potenziamento, la dirigenza parla di ragazzi emozionati e il preside del liceo Mamiane ha convocato tutti i docenti al campo da rugby, come vedete nella fotografia qui pubblicata. Poi intanto i bambini che tornano anche all'asilo, per loro un po' come se fosse un gioco, si devono mettere, vedete tanto questo bambino, tutto rigido, insomma che si mette lì con la fronte alta per farsi misurare la febbre, farsi misurare la temperatura con il termoscanner. Alla nuova scuola anche mascherine trasparenti per sorridere ai più piccoli. E queste infatti sarebbero auspicabili non solo per i bambini ma un po' per tutti. Le medie fanesi sono cantieri per garantire la sicurezza, si studiano anche gli ingressi scaglionati. Ieri lo stesso affano riunioni su riunioni, l'esigenza di risolvere problemi spiccioli, più quella di riconsiderare questioni già risolte per l'intervento di nuove direttive e norme che hanno cambiato la base di partenza, perfino le necessità di abbattere muri e di ricostruirne altri a meno di due settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Insomma, tutto il mondo della scuola è in ebollizione e ci sono delle vere e proprie rivoluzioni. A Fano invece si discute, e qui lo vediamo sul resto del Carlino, del problema degli assembramenti. In che senso? Guardate queste due fotografie. Eccola qua. Allora, qui siamo a sinistra, in questa foto qua, la serata al Mona Lisa, praticamente al Pincio di Fano, che è finita nel mirinio dei controlli, dove sono scattate anche delle multe ai gestori del bar per degli assembramenti. E quest'altra fotografia invece pubblica la fila che c'è in un supermercato cittadino. Ora, adesso si potrebbe disquisire a lungo su queste due fotografie, su che cosa facessero queste persone a sinistra e che cosa stavano facendo queste persone a destra. Potremmo stare qui a parlarne per ore, però ci limitiamo semplicemente a farvi vedere queste foto e a dirvi che insorge il popolo della notte, cioè quelli che stanno a sinistra della fotografia, perché dicono non siamo noi coloro che diffondono il virus, non siamo noi gli untori dell'Italia, possiamo fare serate in sicurezza. Di questo ne parla anche, si fa portavoce anche Federico Arceci, che è organizzatore di eventi e che il giornale questa mattina ha ascoltato, gli ha dato la parola per dire un po' la sua. Anche qualche DJ dice lasciateci lavorare, insomma non possiamo stare sempre con il fucile puntato addosso. Insomma, quello che emerge è che ci sono milioni, dice Minuz, milioni di luoghi dove la gente si ammucchia, ma guardano soltanto noi. E Arceci gli fa ecco e dice così è impossibile lavorare. Sulla pagina invece 15 di Fano del resto del Carlino, c'è la buona notizia, almeno per gli albergatori, che le previsioni nere, assolutamente nere, di marzo, sul fronte degli alberghi, delle presenze turistiche nella nostra città, queste previsioni sono state smentite invece dai fatti. Perché i fatti quali sono? Sono che molta gente è venuta nel mese d'agosto, soprattutto a Fano, alloggiato negli alberghi, e dunque le previsioni da nere sono diventate un grigio chiaro. Possiamo dire così. Perché? Perché alla fine non c'è stata nessuna caporetto, come titola il Carlino di questa mattina. Meno 15% soltanto di incassi, rispetto però alle previsioni che parlavano di conti quasi dimezzate. La categoria appare sollevata, a settembre può ancora riservare delle sorprese. E Cecchini, che rappresenta gli albergatori fanesi, dice il solleone di agosto, ha aiutato molto. I turisti, tutti italiani, dal nord al sud. Ma se fanno ride, Senigallia purtroppo piange. Perché? Perché le previsioni invece lì sono state rispettate. E il titolo di questa mattina non lascia dubbi. Turismo, chiudiamo con un meno 40%. Federer Berghi, il presidente Manfredi, dice agosto ha salvato la stagione anche senza eventi. Siamo una delle regioni che è andata meglio. Però c'è un meno 40%. Andiamo invece adesso a vedere la pagina di Fano, le due pagine di Fano del Corriere Adriatico. Allora, sulla sperimentazione di Piazza Andrea Costa, quella dove sono state tolte le auto, siamo vicino al mercato del pesce, lo ricordo sempre, così la gente comprende meglio. Una sperimentazione per Stefano Marcheggiani che è stata orribile. Adesso speriamo negli arredi. Marcheggiani tranciante su Piazza Costa, incurie e ritardi per tutto il patrimonio culturale. L'ex vice sindaco segnala la chiusura di San Pietro in Valle per colpa di due assessori. Insomma, continua ad avere un po' il dente avvelenato l'ex vice sindaco, ex assessore del turismo, anche sui suoi colleghi attuali di giunta. Insomma, si mostra anche particolarmente critico, contesta un po' le prime impressioni favorevoli che furono espresse dall'assessore alla viabilità Fabio Lattonelli. Marcheggiani, pur lodando la passione che anima il lavoro della giovane assessore, ha definito la sperimentazione orribile, limitata da una visione paesana a dare spazio a pochi tavoli permeati da una triste atmosfera. Mi auguro che, se si intende andare avanti con la pedonalizzazione, il progetto in fase di redazione possa dare veramente un volto nuovo alla piazza, siamo sempre Piazza Andrea Costa, con arredi di qualità. Piazza Andrea Costa, che per chi è di fa non lo sa bene, è praticamente attaccata a Piazza 20 Settembre, dunque nel cuore della città. Poi l'offerta culturale ha trainato le attività economiche estive, l'assessore del Bianco invece è soddisfatta, tanti commenti positivi e Lucarelli concorda. È stata un'estate difficile, chiaramente anche per Fano, segnata da questa emergenza sanitaria, però dicono loro, siamo riusciti a confermare che Fano ha le carte in regola per diventare capitale della cultura. E sono parole appunto dell'assessore Caterina del Bianco. Ancora dai quotidiani, e torniamo sulla cronaca, c'è una notizia che arriva da San Benedetto, però ha un respiro praticamente nazionale, perché di questa ragazza, di questo cadavere, che è stato trovato sulla spiaggia appunto alla Sentina, se ne sta parlando su tutti i telegiornali nazionali. Potrebbe essere di una turista praghese, ancora deve arrivare la conferma. Era in vacanza a Martinsicuro, i familiari hanno denunciato la scomparsa, però è svanito il compagno di 40 anni. Ora molto probabilmente è annegato anche lui, non si trova. L'ipotesi è quella dell'annegamento. Oggi c'è l'autopsia, che però chiarirà le cause del decesso. Tra le ipotesi c'è il fatto che entrambi possano essere annegati durante la forte mareggiata di sabato, quella che ha creato problemi un po' ovunque nel tratto di costa tra le Marche e l'Abruzzo. Infatti molti bagnanti, anche qua da noi, ve l'abbiamo raccontato, poteva essere un dramma anche per qui nelle nostre spiagge, perché sono stati salvati due, un ragazzo di 18 anni e un altro di 26, un milanese di 26 anni, quel giorno hanno voluto tutti fare il bagno, nonostante era proibitivo, perché c'era quel famoso mare che non ti consente di tornare a riva. E se tu non lo conosci, questo tipo di mare e di mareggiata, resti fregato, perché poi ti sfinisce, non riesci a ritornare e lì vai a picco. E quindi probabilmente è successo questo. Ora, che cosa succede? Succede che lo stanno cercando, nel tratto di mare tra l'Abruzzo e le Marche, stanno cercando il corpo di questo quarantenne, che sembra svanito nel nulla insieme a questa sua giovane fidanzata, che vedete purtroppo in questa triste foto sotto il telo verde. Un grido nel parco, invece. Il parco è quello del Miralfiore, noto ormai per essere stato scelto dagli spacciatori per l'attività appunto di spaccio di droga. A un certo punto, un grido nel parco, aiuto, mi rapinano, è successo ieri intorno alle 13, davanti all'ingresso vicino al campo scuola, nel parcheggio. Lo hanno sentito, questo grido d'aiuto, i poliziotti, la polizia locale, e hanno trovato una 43enne pesarese, che era andata al parco, forse in cerca di sostanze stupefacenti. Ad un certo punto, secondo il suo racconto, si sarebbe trovata cerchiata da tre nigeriani e il gruppo avrebbe avuto intenzione di rapinarla. Gli agenti sono riusciti a individuarli, però tutti e tre, assistiti da avvocati d'ufficio, hanno negato ogni accusa. Ora saranno le ulteriori indagini della Procura a fare chiarezza su questa vicenda. Il funerale a Montecchio, di Vallefoglia, di Russi, così veniva chiamato questo ragazzino di 18 anni, morto qualche sera fa in un incidente stradale, era sulla sua motocicletta, è finito contro un palo della luce ed è morto sul colpo. Tutta la comunità di Vallefoglia, sindaco Palmiero Occhielli in prima fila, e non solo, era presente al funerale celebrato ieri pomeriggio nella chiesa di Montecchio. Centinaia di persone, parenti, amici, compagni di scuola, insegnanti, si sono stretti attorno alla mamma e al fratello maggiore di Russi, il fratello Mario, di 24 anni. Erano in tanti. Qui la fotografia della barra mentre arriva sul sagrato della chiesa, qui all'interno invece della chiesa, che per sé già è molto grande, quella di Montecchio, e Don Marco di Giorgio, che si è appena insediato, ha celebrato le esequie, dicendo, possiamo disperarci, disperarci, oppure sperare, sperare che questo non sia un addio, ma solo un rivederci. Ma dicevamo della morte, del mistero, anche che avvolge la morte di un diciottenne, un giovane che è stato trovato morto in casa dell'amica a Gredara, ed è una morte che almeno per il momento resta avvolta nel mistero. Questo ragazzo di 18 anni è deceduto venerdì pomeriggio, intorno alle 19.30, all'ospedale di Pesaro, dopo che i sanitari erano riusciti a rianimarlo, anche per un'oretta. Gli hanno riattivato il polso, insomma tutto il resto, poi però non ce l'ha fatta. I carabinieri adesso devono cercare di capire che cosa il diciottenne ha fatto, chi ha visto nei due o tre giorni precedenti al decesso, era a Gredara, questo si sa, l'unica cosa che si sa, che era a Gredara da pochi giorni, dove aveva iniziato a frequentare questa ragazza, questa amica, nella casa non sono stati trovati stupefacenti e da questo esame autottico non emergerebbero elementi che portano in quella direzione. Il corpo non aveva segni di violenza, non sono stati trovati biglietti che possano far pensare a un gesto volontario, dunque le indagini continuano. A Pietrarubbia, invece, la tragedia di un 62enne, Giovanni Zireddu, che ha perso il controllo del suo mezzo e che è morto con lo scooter. La tragedia è avvenuta sulla provinciale, l'uomo è deceduto sul colpo, è avvenuto ieri mattina a Ponte Cappuccini di Pietrarubbia, dolore a Carpegna, dove risiedeva, il sindaco Ruggeri dice siamo vicini alla famiglia, ancora non si conosce la data dei funerali. Dalla pagina di Urbino del Carlino, Teodori, così completerei la Fano Grosseto, mentre in perversa il dibattito sulla superstrada, il geologo e tecnico dell'area scientifica dell'Università di Urbino illustra una sua idea. Tra l'altro dice giustamente Teodori anche in questa campagna elettorale 2020 la Fano Grosseto è uno dei temi caldi. Si parla ancora di completamento di questa importante arteria, ma rispetto alle volte scorse c'è una novità. La novità si chiama Recovery Fund e è l'accordo che è maturato in seno all'Unione Europea che porterà in Italia circa 200 miliardi di euro da investire per ammodernare e far ripartire il paese. Siamo in chiusura lo sport con la VL, la squadra di basket che è in partenza per giocare la sua partita a Sassari. C'è un positivo però non nella VL. Domani nella bolla di Olbia comincia infatti la Supercoppa. La Dinamo ha isolato un giocatore e sta rifacendo i tamponi a tutta la squadra. e tra l'altro di tamponi ne avranno diversi perché il gruppo che però è risultato negativo al test sarà sottoposto a ulteriore tampone nella giornata odierna cioè ieri per chi legge e ripeterà l'esame giovedì mattina quindi domani mattina prima della partenza verso il Geovillage come da protocollo. Il protocollo che sono molto rigidi e quindi va da sé che insomma quando si scendere in campo perlomeno si avrà la certezza che siano tutti i giocatori che siano tutti negativi. Visto che ci siamo su questa pagina andiamo anche sotto dove c'è la notizia e qui parliamo di pallavolo di B2 femminile l'APAV l'APAV di Lucrezia l'obiettivo è la salvezza ed Elisa Cella farà la differenza. Preparazione al via Coach Galli dice Corridogna e Dimitri fermo le favorite assieme a Perugia e Forlì. Qui vedete la fotografia delle ragazze del pallavolo di Lucrezia attorno all'allenatore Davide Galli durante un time out e con questo direi che possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera come sempre alle 20 e 30 stasera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia come sempre c'è il nostro numero di telefono il 338 4968 250 che è a vostra disposizione per le segnalazioni e come sempre lo faccio spesso ma non è mai abbastanza vi ringrazio a nome di tutta la redazione per la vostra preziosissima collaborazione buona giornata e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.